Tutti noi, tutti noi abbiamo perso qualcosa di prezioso, tutti noi abbiamo perso casa, sogni e amici, ma ora Sin è finalmente morto, ora Spira è di nuovo nostra. Lavorando insieme potremo ricostruire nuove case e nuovi sogni per tutti. Lo so, il lavoro sarà duro, ma abbiamo un sacco di tempo, la strada è proprio qui, davanti a noi, perciò iniziamola a percorrere da oggi. Solo un'ultima cosa, i compagni e gli amici persi, i sogni infranti, non dimentichiamoli mai. Lavorando insieme potremo, non dimentichiamoli, non dimentichiamoli, non dimentichiamoli, non dimentichiamoli. Lavorando insieme potremo, non dimentichiamoli, non dimentichiamoli, non dimentichiamoli, non dimentichiamoli, non dimentichiamolo, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Credo, credo di sì. È tutto finito. Sei tornato? Sono tornato. Sono a casa. V'internato. V'internato a casa. Ragazzi, e qui ci sente l'amore. Un applauso a tutti quanti. è un pubblico moscio ma che c'hanno